Nandina anche stamattina si è alzata molto presto, prima del sorgere del sole e anche oggi il suo lavoro sarà quello di radere l'erba. All'ortodio l'erba si taglia così, si utilizza una mucca volosa, una corda, poi bisogna ricordarsi di lasciargli dell'acqua e del sale possibilmente. E quindi anche oggi Nandina pensa a tenere bassa l'erba e a produrre parecchio concime. Vero Nandi? Nandina! Bella! Ciao! Ciao!